Partenza ad Endica, siamo partiti con una sconfitta, che partita è stata? È stata una partita brutta, il risultato più giusto forse sarebbe stato il pareggio. Abbiamo subito gol su una punizione, insomma, gol evicabile sul palo del portiere. Però al di là di questo noi dobbiamo crescere tanto, lo sappiamo, abbiamo tanto lavoro da fare. Il compito è arduo, insomma, sono qua per questo. Questa è una categoria che storicamente, in cui storicamente la Lazio ha qualche vinciamo. Insomma, i ragazzi vengono già da una stagione agonistica con i fascia B. Quali obiettivi ha dato la società e quanto pensa che possa migliorare ancora questo gruppo? Gli obiettivi che mi ha dato è di far crescere questi ragazzi consci dei problemi che ci sono. Questo gruppo l'altro anno è arrivato quinto in classifica e quindi è un gruppo che ha bisogno di crescere, di acquistare fiducia. L'abbiamo visto anche oggi le difficoltà che ci sono e quindi dobbiamo piano piano migliorare. Siamo solo all'inizio e però c'è tanto lavoro da fare. Dal suo punto di vista lei invece ha peso le scarpe a codo da poco tempo. Che cosa si aspetta da questa carriera di allenatore? E comunque quali stimoli ha trovato nel ripartire dei giovani? Insomma, l'esperienza insegna anche gli allenatori che adesso sono in Serie A come Vincenzo Montella. Insomma, partendo dai giovani poi sono riusciti ad avere una gavetta diversa rispetto a chi da professionista in Italia. Esatto, io penso che un allenatore che vuole ambire ad alti traguardi non può prescindere di cominciare con i giovani. Con i giovani spesso c'è tanto lavoro da fare e quindi nell'organizzare gli allenamenti, nell'insegnare è un'esperienza importante per il sottoscritto. Ovviamente quando vai nelle prime squadre, specialmente di livello, qualsiasi cosa proponi la fanno facilmente. Qui è un po' più difficile, però per quello se raggiungi i risultati le soddisfazioni sono maggiori. Grazie, un bocca al lupo. Grazie.